Ciao ragazze bentornate sul mio canale oggi vi mostro gli acquisti di make up e non solo fatti nel mese di maggio già durante il video all di aprile vi avevo anticipato alcuni di questi acquisti per cui oggi ve li faccio nuovamente vedere dandovi anche qualche impressione dopo queste settimane di utilizzo iniziamo dal mascara volume sguardo meraviglioso di debora milano che avevo pagato 5 euro e 90 in offerta lancio non so quale sia attualmente il prezzo di questo mascara in generale devo dire che un mascara con il quale mi trovo abbastanza bene è quello che ho su anche oggi lo sto utilizzando tuttora tenuto anche conto appunto del basso prezzo pagato però presenta un difetto lo scovolino un po troppo grande per cui bisogna prenderci un po la mano dopo i primi giorni è molto facile fare paciughi io oltretutto non riesco a raggiungere bene le ciglia laterali né a incurvarle come piacerebbe a me nonostante l'uso del piegaciglia per cui in generale è un prodotto nì che non so se ricomprerò nuovamente poi vi avevo già anticipato i due rossetti haim di pupa acquistati con la favolosa promozione dei coupon e quindi pagati ciascuno 5 euro e sono il 406 questo bel colore a metà strada fra il rosso e il fucsia che vedete applicato sulle mie labbra nel video di aprile e poi il 305 questo bel rosso ciliegia che di nuovo vedete applicato nel video al quale vi accennavo questi due prodotti a differenza del mascara visto prima sono due prodotti top a prescindere dal prezzo pagato perché sono rossetti veramente molto validi credo che questo valga per tutta la linea dei rossetti haim di pupa per cui secondo me vale comunque la pena acquistarli anche a prezzo pieno il prezzo pieno è di circa 12,90 per cui una cifra media tenuto anche conto che sono prodotti facilmente reperibili e poi veramente validi come texture come dorata come varietà di colore quindi insomma io ve li consiglio adesso passiamo agli altri prodotti acquistati nel mese di maggio rimanendo ancora in tema di rossetti innanzitutto usufruendo di uno scondo del 15 per cento che era in corso da limoni nei giorni della festa della mamma ho acquistato un rossetto e un lip gloss di di or della collezione primaverile di quest'anno la trianon una collezione estremamente romantica e femminile tutta declinata sui toni del rosa pesca del fucs insomma come piace il rossetto è della serie rouge di or ed è il numero 774 allegresse che vi mostro indossato nel video 3 make up con la naked 3 del quale vi lascio il link giù nell'info box è questo popò di rossetto per questo acquisto devo ringraziare di nuovo la mia amica tiziana tifanity mille la quale appassionata anche lei di rossetti di or me l'ha consigliato dicendo appunto di dare un'occhiata a questa collezione e devo dire tiziana che come sempre avevi ragione ti mando un grosso bacio il lip gloss invece è questo sempre della dior della linea di or di il numero 442 mi pare si chiami pechianti io non conosco il francese per cui scusate l'eventuale strafalcio questi lip gloss sono di nuovo molto famosi amate da tutte caratterizzati da questo packaging meraviglioso e questo colore è molto tenue e tende un po al rosa pesca ed è l'idea è quasi un nude molto rosato trasparente insomma c'era tutto è glitterato è fantastico e per cui si abbina perfettamente ad esempio agli smoky neri gli smoky marroni gli smoky sul pioso ma è una meraviglia veramente quando capiterà magari in un video tutorial ve lo mostrerò anche indossato ragazzi oppure posto qualche foto su facebook o sui vari social network l'ultimo rossetto acquistato nel mese di maggio e addirittura ricevuto già a giugno a causa del pond del 2 giugno è quello che sto indossando in questo momento ed è red balloon di mac red balloon è di nuovo uno di quei colori un po come il 406 di pupa che si colloca un po fra il rosso e il fucsia sul sito di mac viene definito come un fucsia esagerato una cosa del genere come li definiscono sempre loro per cui in effetti tira più sul fucsia ma è un colore fantastico ha un finish amplified che però a mio parere facendo parte di una collezione limitata che è la playland uscita da pochissimo è più cremoso dei soliti amplified che io ho tra l'altro un finish che mi piace molto l'amplified lo potete vedere voi stesse credo è un rossetto estremamente cremoso pieno ricco nel colore che dura tantissimo ma risulta molto confortevole sulle labbra ve lo swatcho sulla mano e lo potete capire voi stesse da come scorre purtroppo è un po difficile da reperire perché ad esempio sul sito è sempre esaurito e per cui se avete la fortuna di poter andare di persona in un mac store o pro store potete anche trovarlo io questo l'ho acquistato con ordine telefonico allo store mac di milano ma non il solito di via fioricchiare dove mi rivolgo sempre ma l'altro mi sembra di via torino insomma chi è di milano perdoni la mia poca conoscenza di questa meravigliosa città ma purtroppo insomma io abito isolata solo una campagnola però i rossetti mac mi piacciono e sinceramente questo è uno dei più belli appunto prodotti ultimamente da mac rimanendo sempre sui prodotti di make up nel mese di maggio ho acquistato un'altra delle mixing color palette della bishik questa con le tre cialdine che possono essere utilizzate sulle guance sugli occhi e sulle labbra e che io sto utilizzando soprattutto come blush già nel video di aprile ve ne avevo mostrata una con dei toni molto più accesi per cui c'era la cialda cremosa rossa l'illuminante più freddo e il fucsia un pochino più acceso e questa qui come vedete ha dei toni un po' più smorzati per cui la cialda cremosa è un color pesca molto tenue l'illuminante è di nuovo un color pesca shimmer e infine la cialda tendente al fucsia è comunque un po' più tranquilla ad esempio in questo momento sto indossando il blush fucsia di nuovo opinione estremamente positiva su questo prodotto la bishik è un marco che mi piace tantissimo perché è giovane, made in italy però produce prodotti estremamente validi tra l'altro con un packaging molto robusto ed elegante all'interno troviamo questo bello specchio intero per cui insomma la mia opinione positiva su questo marco e su questo prodotto si conferma in pieno poi vi mostro un prodotto per il corpo che ho acquistato soprattutto in questo periodo un po' particolare per me lo sapete sono incinta, sono nel quinto mese ed è la crema contro le smagliature della Rilastil questa qui per pelli delicate viene venduta in una confezione doccia per cui ci sono vedete due flaconi da 125 ml ciascuno al prezzo di 28 euro che comunque mi pare un prezzo ragionevole per cui io la dovrò utilizzare quotidianamente per i mesi a venire e magari anche oltre devo dire che sono molto soddisfatta vi mostro sempre nei prodotti di maggio il regalo che mi ha fatto il mio bambino perché io ne ho già uno di 9 anni appunto per la festa della mamma ed è questa bellissima confezione di pupa della linea Pink Fifties caratterizzata innanzitutto da questa bellissima scatola che ricorda proprio gli anni 50 e rosa e fulsi e molto bella all'interno troviamo due prodotti vedete la scatola poi ovviamente si può riutilizzare i due prodotti sono un latte doccia e un latte corpo nel gusto lollipop che sarebbe il leccalecca esiste anche la versione cotton candy per cui cotton candy scusate per cui lo zucchero filato che io con molta fantasia ho regalato a mia mamma per cui ci siamo fatti tutto lo stesso regalo questa profumazione è molto dolce molto piacevole perché è dolce ma c'è anche una punta di profumo per cui è abbastanza anche fresca nello stesso tempo ma al di là appunto del packaging e della profumazione molto belli sono validi proprio come prodotti perché lasciano la pelle entrambi la pelle molto morbida molto idratata per cui insomma diciamo il mio figlio con l'aiuto del papà ha azzeccato anche stavolta sarebbe stato comunque perdonato qualsiasi cosa mi avesse regalato per cui ragazzi questo è tutto io spero che i miei prodotti vi siano piaciuti fatemi sapere se li avete anche voi cosa ne pensate se siete o meno d'accordo con me io vi ricordo e vi lascio anche il link di quel video nell'info box l'anteprima della mega collaborazione che pubblicheremo con Fedi Chitti e tutte le ragazze entro la fine di giugno tenete d'occhio il mio canale quello di Fedi Chitti e di tutte quelle che partecipano sosteneteci e se vi fa piacere ci vediamo al prossimo video vi mando un grosso bacio a tutte ciao